Sì, lo so, sono cose dette e ridette, sono pensieri che affollano la mente di tutti, oggi, o quasi, ho un pensiero oggi, ed è che la vita mi sfugga dalle mani, facendomi fallire o peccare, quando ero bambina era ieri, e allora oggi che cos'è? Tutto un pensiero che suona il solito colore, che si ripete come un giro tondo, che affolla la visione della mia vita, tutto corre, ed io, ed io sento di essere ferma, come quando guardi il treno sui binari, so che ero, che sono, e che sarò qui, Ogni volta, questi occhi vedranno bambini, genitori e nonni, cuccioli, germogli e fiori, perché sono qui? Perché faccio ciò che amo fare? Mi rendo conto di non rendermi conto, e cerco forse natamente di ricordare la mia scelta, che sento, ma non mi parla mai, sola, anche in mezzo a mille, come osservatore di un qualcosa che non ricordo di conoscere, e mi piace, sto bene e mi basta, non posso dire che andrò avanti, per ora no, ma forse un giorno, qualcuno lo racconterà al posto mio, con una lacrima, e lascio ai posteri la scelta che sia gioia, rabbia o nostalgia.